Anche oggi al sicuro! Via! Guarda con attenzione a destra e poi in sinistra, guarda con attenzione a destra e poi in sinistra, tre, due, uno, oh! Mettiti la cintura, stretto si fa così, mettiti la cintura, stretta, stretta, tre, due, uno, oh! Siamo tutti seduti dentro il bus, dentro il bus, siamo tutti seduti allo scopo, uno, oh! Tre, due, uno, oh! Scurping guida bene sì, la 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 la! Scurping guida bene sì, la 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 la! Tre, due, uno, oh! La sorpresa di Scooby! La la la! Sono Scooby e adoro i bambini più di ogni altra cosa al mondo! Siete arrivati! State attenti quando scendete! Annie, Tim, Mary, Toby, Sam! Mi raccomando, siate gentili gli uni con gli altri! Scooby, siamo grandi ormai! Certo che sarò gentile con gli altri! Esatto! Adesso andiamo alle elementari! Sì, è vero che è sbadato! Ora frequentate ufficialmente le elementari! Mi rendete così orgoglioso! Congratulazioni, ormai siete grandi! Oh! Farete tardi! Correte in classe! Corriamo! A più tardi, Scooby! Ciao, ciao a tutti! La 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 la! Non posso credere che i miei amici siano già alle elementari! Il tempo passa così in fretta! Vorrei tanto fare a tutti loro un bel regalo a sorpresa, ma cosa potrei fare? Ah, forse potrei donare loro dei fiori o... Grazie, Posti! È un piacere! Oppure un bel bigliettino! Oh, vorrei tanto trovare una bella idea! Che splendidi palloncini! Ci sono! Comprerò dei magnifici palloncini! Salve, signore! Sarebbe possibile acquistare dei palloncini? Certo che sì! Come li desidera! Li preferisce blu o rossi! Ne ho di tutti i colori! È un pensierino per i miei amici! Quindi vorrei i più speciali di tutti! I più speciali? Eh... Non ce ne sono tanti! Mi faccia guardare! Questi non vanno, neanche questi... Visto? Ne restano solo cinque! Perfetto! È proprio il numero di palloncini di cui ho bisogno! D'accordo! Ma assicurati di maneggiarli con cura! Altrimenti potresti combinare un guaio! Grazie, signore! La ringrazio moltissimo! Wow! Sculby ha dei palloncini meravigliosi! Sculby! Ciao, Ellie! Perché hai dei palloncini? È un segreto! Ti prego, dimmelo! Ti prometto che manterrò il segreto! E va bene, però non devi dirlo a nessuno! È una sorpresa per i miei amici per il loro primo giorno di scuola all'elementare di Broom! Sono una sorpresa! Oh wow! Io sono certo che gli piaceranno molto! Lo credi davvero? Non vedo l'ora di dargli questi pensierini! Non sto nella scocca! Sculby! E che mi dici della squadra? C'è qualcosa che potremmo fare per darti una mano? Qualcosa per aiutarmi? Ci sono! Ho appena avuto una splendida idea! Wow! Di che si tratta? È meglio bisbigliare! Oh! È davvero una grande idea! Vado a dirlo a tutti in stazione! Allora è deciso! Ci vediamo dopo la scuola! Ok! A dopo! Eccomi qua! Ellie! Sembri così felice! Si direbbe che hai in mente qualcosa di divertente! È proprio così! Mi hanno appena riferito di una sorpresa che coinvolge tutti noi! Una sorpresa? Sculby vuole il nostro aiuto per una sorpresa da fare ai suoi amici! Per quale occasione? Avvicinatevi! Sì! Gli amici di Sculby sono andati all'elementari! Era il loro primo giorno di scuola! Quando darò loro i palloncini saranno tanto felici! Grazie Sculby! Sculby! Sei il mio meraviglioso amico del cuore! Che bello! Che emozione! Sono il settimo cielo in questo momento! Spero proprio che vada tutto secondo i piani! Spero proprio che vada tutto secondo i piani! Oh no! I miei palloncini! Per favore, fermatevi i miei palloncini! Il nostro compito è organizzare uno spettacolo a sorpresa! Esattamente! Questo è quello che vorrebbe Sculby! Lui consegna i palloncini e noi prepariamo uno spettacolo a sorpresa! È una grande idea! Sarà un momento davvero speciale e lo ricorderanno per sempre! Sarà proprio divertente! Che bello! Anche secondo me sarà fantastico! Squadra di soccorso qui è Gin! Oh! Ma i Sculby! Gin! È successo qualcosa! I miei palloncini! Una forte volata di vento li ha fatti volare via! Volare via? Sono volati via! Cosa posso fare adesso? Oh! Sta tranquillo Sculby! Ci deve essere qualcosa che possiamo fare! Davvero? Puoi contarci! Invio subito la squadra di soccorso! Oh sì! C explicarò che cosi di Madara diource! Eh no! Tridzelfo", dice! Cada a finalistra! Al Metresistre a evitare. Quanto si perde delicatamente! Quanto si perde sa attention! Quanto si wurde proprio di nuovo! Quanto si permite, il brano di Platt, Ciaro di capitolo guerra truffaan! Quanto si perde questa! Quanto? Quanto un capitolo- Scusate, amici! Eccovi! Oh, è tutta colpa mia! Ero così entusiasta e non ho prestato attenzione! Sta tranquillo, ci siamo qui noi a darti una mano! Che ne dici di cercare il rivenditore di palloncini? Probabilmente lui ne avrà ancora tanti in magazzino! No, non è possibile! Gli erano rimasti solo cinque ed erano speciali! Non piangere, Sculby! Troveremo i palloncini, ne sono sicuro! Davvero? Te lo prometto! A proposito, Sculby, sai in che direzione sono volati i palloncini? Vediamo un po'. L'aeropianino blu e il palloncino a stella arancione sono volati oltre il municipio e... Il palloncino giallo a farfalla e il cuore rosso sono volati verso il barco ovest! Mentre il pallone da calcio... Non ho proprio idea di dove sia andato quel palloncino! E ora che si fa? Non ti preoccupare! Se li cerchiamo insieme, li troveremo! Esatto! Non piangere, Sculby! Grazie, amici! Sì, avete proprio ragione! Coraggio! Troviamo i palloncini! Avanti! Mi sembrava di aver visto un palloncino quassù... Poli! Posti! Ehi! Che cosa fai? Posti, hai visto per caso un palloncino a forma di aeroplano? Un palloncino? Ne ho appena visto uno che sorvolava la collina! Davvero? Grazie, posti! Oh no! Beh, almeno sei sano e salvo! Ma... Ma... Dove è andato? Oh? Sciocchino! Anche se fingi di essere una mela, sei un palloncino! Ti ho acciuffato! Ti ho trovato! Le gomme! Mi scusi, signor Wheeler! Le rimetto subito in ordine! L'ho visto prima io, quindi è mio! Io l'ho visto prima di te, quindi non può essere che mio! Amici? C'è qualche problema? Scusate, ma dovrei riprenderlo! Quel palloncino ha già un proprietario! Non è possibile! Se così fosse, non importa! Tanto quel palloncino non mi piaceva! Neanche a me! Neanche a me! Oh! Oh! Salvato! Sei davvero un combina guai! Oh no! Mi serve ancora un palloncino! Lo devo assolutamente dare a Toby! Ciascuno dei miei amici deve averne uno! E ora che si fa? È già l'una! I ragazzi tra poco dovranno tornare a casa! Oh no! Cosa faccio adesso? Sculbi! Ehi, guarda! È proprio lì! Un palloncino! Che gran fortuna! Oh! Il pinnacolo farà scoppiare il palloncino! Oh! Cosa faccio adesso? Non devi temere, Sculbi! Lo recupero io! Ehi, l'ultimo lavoro! Evviva! Ehi, ha salvato l'ultimo palloncino! Urrà! Wow, palloncini! Grazie mille! È stato un piacere! Congratulazioni! Siete alla scuola elementare! Ellie, sei in posizione? Io sono pronto! Apro le danze! Ragazzi, guardate in cielo! Oh! Wow! Vi voglio tanto bene! Grazie, Sculbi! È un piacere! Sei il migliore amico del mondo! Oh! Bhai! He 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 yo! Ha ha ha! Oh! 5 Grazie a tutti.